Vuoi sapere di più sull'affidabilità dei tuoi clienti e dei tuoi fornitori? Vuoi incrementare il tuo business? Guidamonaci.it è il portale qualificato della Business Community per scaricare liste personalizzate con visure, bilanci e dossier aziendali. Tutto online su Guidamonaci.it, business e marketing intelligence dal 1870. Ancora insieme per Speciale Calcio, un saluto da Pietro Cesaro. Cannavaro una bella partita per quanto riguarda gli anticipi del campionato di Serie A, quella giocata tra Sassuolo e Lazio, vinta dalla Lazio 2-1, ma il Sassuolo era passato in vantaggio con Berardi su rigore per fallo sullo stesso Berardi. Il pareggio con un diagonale di immobile è partito sul filo del fuorigioco oppure leggermente in fuorigioco. Tra l'altro Cannavaro con una spettacolare rovesciata che è finita sulla traversa ha salvato il nuovo vantaggio della Lazio. Nell'intervallo tra l'altro passarella per i giocatori del Sassuolo che in settimana, la primavera del Sassuolo, ha vinto il torneo di Viareggio. Il 2-1 realizzato all'83esimo con un cross di Lombardi che ha trovato la sfortunata deviazione di Acerbi con un autogol per la vittoria quindi del Sassuolo. Tra l'altro Viscino all'89esimo al pareggio con un colpo di testa di Pellegrini che ha battuto sul palo e con Berardi che al 93esimo ha sbucciato la palla. Vittoria regolare diciamo della Roma in vista del prossimo impegno. Ricordiamo che ritornerà alla Coppa Italia in settimana con il derby Roma-Lazio dove speriamo di vedere una bella cornice di pubblico visti gli ultimi cambiamenti che sono stati apportati. 2-0 della Roma con l'Empoli con il vantaggio di Dzeko che ha deviato in rete su azione di calcio d'angolo e poi il raddoppio sempre di Dzeko con un assist di testa di Salah. Il turno di campionato non finisce domenica ma finisce lunedì sera con un altro Monday Night quello che si giocherà tra Inter e Sampdoria. Facciamo una breve parentesi e parliamo di calcio femminile. Quest'anno ricordiamo che oltre il campionato europeo Under 21 maschile si giocherà anche il campionato europeo femminile dal 16 luglio al 6 agosto nei Paesi Bassi. Tra le 16 partecipanti ci sarà anche l'Italia guidata dal mister Antonio Cabrini. Facciamo anche brevemente il punto della situazione del campionato di calcio di Serie A di calcio femminile. Vittoria a Brescia per 2-1 della capolista fiorentina Women's. Quindi c'era anche il big match in questa giornata. Il Mozzani che ha battuto in casa 6-2 il Luzerna e vince anche il Verona 5-0 in casa dello Zaccaria. In classifica quindi al comando la fiorentina Women's che ha allungato a 51 punti sul Brescia fermo a 45 proprio in merito alla vittoria esterna ottenuta a Brescia per 2-1. Ascoltiamo adesso il mister, il commissario tecnico più esattamente dell'Under 21 di Biagio che fa un po' il punto della situazione e soprattutto un bilancio delle due amichevoli che ha giocato la nazionale prima in Polonia e poi a Roma davanti anche a un folto gruppo di VIP. La partita in settimana contro un'altra big la Spagna che ritroveremo, speriamo appunto, anche nelle fasi finali dei campionati europei vuol dire che l'Italia sarà andata avanti. Fa un po' il punto della situazione di Biagio e lo ascoltiamo. Abbiamo affrontato due grandissime squadre, la Polonia e stasera la Spagna che forse è una delle migliori squadre a livello Under 21, l'abbiamo notato questa sera. Però ecco, tenere botta ad una squadra di questo livello non è semplice. Ci siamo riusciti nonostante loro abbiano un palleggio molto importante. A volte abbiamo anche sofferto, però alla fine siamo tornati in partita in un momento veramente molto difficile della gara, quindi una serata per me molto positiva. Io ce l'avevo chiare prima e ce l'ho chiare adesso, ma è giusto che sia, perché comunque l'altra sera dicevo che devo salvaguardare la salute dei ragazzi e a volte ho dovuto fare dei cambi perché ci sono dei ragazzi che non giocano da tanto tempo. Vorrei ricordare Mandragola su tutti, un anno che non fa una partita, quindi nonostante se stessi giocando una buona gara ho dovuto toglierlo. Quindi comunque sono dei motivi di crescita a partita come questo, perché giocare contro uno squadrone, un dream team come avete chiamato voi, di questo calibro ci fa crescere, però abbiamo tenuto botta e siamo tornati in partita in un momento difficile e sono molto contento. Come no, assolutamente, ma poi non siamo così distanti, attenzione, perché comunque loro sono una grandissima squadra, è vero, ma noi abbiamo costruito 6-7 palle di gol, anche loro, anche loro, ma le palle sullo 0-0 più importanti le abbiamo avute noi e sul 2-1 con un po' di fortuna potremmo anche pareggiarle. Ma non ci sono mai state trattative, non ci saranno, c'è solo dei confronti continui per il bene e della Nazionale A e dell'Under 21, quindi si sta parlando di niente, a breve vedremo, ma non è un problema, aiuto lavorare con quello che ho. Il mio obiettivo è preparare i ragazzi per la Nazionale A, anche stasera ce ne erano tanti. Sì, sappiamo, se volete parliamo delle assenze, per me sarebbe più semplice, potremmo dire che mancano 15 giocatori e devo trovare una giustificazione alla sconfitta, ma io sono contentissimo di questi ragazzi, quindi non so di cosa stiamo parlando. Il mio obiettivo è far crescere novità per quanto riguarda gli Under 21 per la Nazionale A e stasera ne abbiamo viste tante, quindi per me è un motivo di crescita nel momento in cui manca qualcun altro. Quindi, ripeto, possiamo stare qua tutta la sera a parlare delle assenze, ma non mi interessa. Parliamo del campionato di calcio di Serie B adesso, è il Veneto a gioire in questa giornata, il Verona raggiunge la SPA al secondo posto grazie alla vittoria 2-0 a Trapani, gol di Pazzini e Luppi nella ripresa, il Cittadella ha vinto 2-0 a Latina, con le reti segnate da Strezzolo e Chiaretti. Altra vittoria esterna, quella del Benevento, 3-1 in casa dello Spezia, 1-0 al Curi del Perugia sul Vicenza, sale in classifica anche il Carpi, 2-1 ad Ascoli, Brescia recupera lo 0-2 con l'Entella e fa 2-2, vince la Salernitana Pisa, 1-0 con Rosina appena entrato nella ripresa e un'altra ennesima vittoria esterna, ce ne sono state diverse in questa giornata per questo turno e aggiungiamo anche quella della Ternana, 2-1 a Novara. Perde il Bari a Vercelli, 1-0 venerdì, ricordiamo la sconfitta ulteriore della SPA dopo la sconfitta subita lo scorso turno nel big match col Frosinone, 1-0 questa volta ad Avellino, 1-1 tra Cesena e Frosinone. Leggiamo di una iniziativa per quanto riguarda la Lega B, grazie all'accordo tra System Line SRL di Empoli, la Commissione Medico-Scientifica della Lega B, è iniziata la sperimentazione del software Football Data Pro per la gestione delle cartelle cliniche digitali con l'obiettivo di sostituire i vecchi supporti cartacei. La sperimentazione è oggi iniziata con 7 delle 22 società che partecipano alla Serie B, quali appunto Avellino, Bari, Cittadella, Frosinone, Novara, Spezia e Ternana. L'obiettivo della Lega B che ha posto fra i compiti della Commissione Medico-Scientifica la creazione di una cartella clinica elettronica che accompagni il calciatore nel corso della carriera è estendere il progetto a tutte le squadre del campionato nella massima sicurezza e in regola con la normativa sulla privacy per la gestione dei dati sensibili. Questo progetto quindi permetterà alle società di trasferire i dati dei giocatori in tempo reale in caso di cessione del tesserato. Prima di passare al calcio estero, due notizie che riguardano ancora il calcio nazionale. In settimana, l'avevamo già accennato precedentemente, si è giocata la finale del torneo di Viareggio vittoria ai rigori del Sassuolo sull'Empoli. Dopo i supplementari il match era finito 2-2 per il Sassuolo e la prima vittoria nel torneo. Anticipo del campionato di Lega Pro tra Reggiana e Pordenone è giocato giovedì sera davanti alle telecamere di Rai Sport. 0-0 con la Reggiana all'86esimo vicina al gol con un salvataggio del portiere Friulano. Calcio estero abbiamo detto, vittoria del Paris Saint-Germain nella Coppa di Lega 4-1 contro il Monaco davanti a 58.000 spettatori. Vantaggio di Draxler servito da Di Maria. Poi il pareggio poco dopo di Lemar con un tiro a centro aria di sinistro. Il 2-1 di Di Maria solo davanti al portiere ha infilato di sinistro e poi successivamente nella ripresa doppietta di Cavani. Prima al volo di destro per il 3-1 e poi al volo di sinistro per il 4-1. Finalmente una vittoria per il Paris Saint-Germain dopo la gestione Emery che chiaramente è la prima vittoria per la gestione Emery quest'anno che guida per la prima volta il Paris Saint-Germain ma soprattutto dopo lo shock subito dopo l'eliminazione col Barcellona ricordiamo per 6-1. In Premier League in testa sempre il Chelsea di Conte a 69 punti ma inaspettato stop interno 2-1 sconfitto dal Crystal Palace dietro accorcia il Tottenham 62 vincendo 2-0 in casa col Barnley vince anche il Liverpool più distanziato però a 59 punti che con Mané, Coutinho e Origi ha battuto 3-1 l'Everton nel derby. 6-0 nella Bundesliga del Bayern di Monaco di Ancelotti all'Allianz Arena contro l'Augusta tripletta di Lewandowski 2 di Müller e 1 di Alcantara sono 13 comunque i punti di vantaggio del Bayern sull'Ipsi a secondo che ha comunque vinto 4-0 contro il Darmstadt in Major League Soccer Giovinco con i suoi Toronto fa 0-0 in casa contro lo Sport in Kansas City 0-0 anche tra Seattle e la nuova matricola Atlanta vince New York City i New York City di Pirlo 2-1 contro San Jose Atquakes Harrison e McNamara hanno recuperato il vantaggio di Uregna ancora calcio a estero con una notizia che riguarda Ciro Ferrara che nella seconda divisione cinese è stato esonerato dalla guida del One All dirigenza delusa dopo una campagna acquisti ambiziosa un solo punto in due partite è un po' poco forse per giudicare l'operato di Ferrara se effettivamente è così comunque il centrocampista tedesco Schweinsteiger che tra l'altro aveva anche sbagliato se vi ricordate un rigore nei quarti di finale contro l'Italia uno dei tanti rigoristi che avevano fallito un rigore in quell'occasione Schweinsteiger è stato liberato dal Manchester United giocherà nella Major League Soccer con il Chicago Fire nelle qualificazioni mondiali delle squadre sudamericane il Brasile è la prima squadra ad accedere a Russia 2018 dopo la vittoria 3-0 col Paraguay ottenuta in settimana a segno anche Neymar la Argentina rischia l'eliminazione dopo la sconfitta subita in Bolivia 2-0 soprattutto con la tegola della squalifica di Messi per quattro turni per frasi ingiuriose nei confronti dell'assistente dell'arbitro la Cina di Lippi aveva fatto sperare Lippi stesso e tutti i cinesi con la vittoria 1-0 contro la Corea del Sud con un gol di Yu Dabao era stata la prima vittoria tra l'altro della Cina nel girone di qualificazione si era avvicinata alla squadra che sta davanti cioè l'Uzbekistan ma una nuova sconfitta subita da Lippi nel match in Iran 1-0 la fa rimanere di nuovo penultima nel girone quindi complica ancora il percorso di avvicinamento diciamo al posto che garantirebbe la partecipazione nei play-off per la squadra di Lippi Sul speciale calcio l'ex calciatore della settimana Questa settimana parliamo di Pietro Anastasi che è nato a Catania il 7 aprile 1948 dopo gli esordi nella Massiminiana e la ribalta nel Varese legò la sua attività calcistica soprattutto alla Juventus squadra nella quale ha militato per otto stagioni diventandone uno degli uomini simbolo nonché tra i più amati, tra i tifosi fino ad esserne dominato capitano dal 1974 al 1976 con i bianconeri ha vinto tre campionati di Serie A nel 1971-72, 1972-73 e 1974-75 disputando le finali di Coppa delle Fiere nel 1971 Coppa dei Campioni e Intercontinentale queste ultime due nel 1973 considerato uno dei migliori attaccanti italiani della sua generazione segnò in Serie A con la Juventus 78 reti in 258 partite ha chiuso la sua carriera con le maglie di Inter Ascoli e Lugano campione europeo con la nazionale italiana nel 1968 segnò uno dei due gol del 2-0 sulla Jugoslavia l'altro lo segnò Gigi Riva è diventato anche opinionista televisivo Cosa ti ricordi di quegli anni felici alla Juventus Pietro? Beh, sono stati otto anni passati alla Juventus è stato benissimo anche se alla fine ci siamo lasciati con un po' di amare in bocca non con la società ma con parola che era comunque sono bellissimi ricordi Tu arrivi alla Juventus passando per l'Inter è un episodio curioso che pochi conoscono vogliamo raccontare? C'è stata l'occasione di fare una partita a Michele con l'Inter perché ero molto un giornalista di Roma e loro hanno organizzato questa partita a Inter-Roma e io ho giocato con l'Inter perché ho chiesto alla federazione il permesso di fare questa partita ero convinto di andare all'Inter tra il primo e il secondo tempo invece c'è stata una notizia me l'ha data il fotografo che è venuto qui di Varese e mi ha detto guarda Pietro sei andato alla Juventus per totte milioni e basta io sono tutto lì indietro nel tempo a 14 anni un ragazzino già bravo alcivoli di Catania che si fa raccattapalle che si fa fotografare con John Charles numero 9 della Juventus facendo il raccattapalle a Catania una partita Catania-Juventus ho fatto questa foto con John Charles grande gigattone gigante buona chiamata ho fatto questa foto ho ancora questa foto cioè per un tifoso che da ragazzino sogna di giocare a Juventus poi di arrivarci come ci sono arrivato io è un sogno massimo 168 l'Italia a Roma si laurea campione d'Europa e Pietro Anastasi segna un gol 2 a 0 per l'Italia 1 di Gigi Rivono tuo stupendo è stata una discesa di desistri dalla parte di mezzana a destra mi ha passato questa palla io sono andato incontro sono andato col sinistro qualcuno ha detto anche che l'ho stoppata un ballo perché l'ho stoppata un ballo invece questa palla qui si è alzata a mezza terza io ho distinto ho calciato i segni rovesciati ho fatto uno bellissimo bello sul speciale calcio l'ex calciatore della settimana è tutto anche per questa settimana a risentirci da Pietro Cesaro Dalla Latteria Trecime di Dobbiaco bontà naturale dell'Alta Pusteria su Tirolo prodotti di freschissimo latte fieno latte, formaggi saporiti e yogurt 100% latte fieno prodotti gustosi e genuini ottimi per il benessere sul sito trecime.it troverete l'intero percorso produttivo della Latteria Trecime Mondolatte di Dobbiaco www.pietrocesaro.com promuove il tuo marchio su radio, podcast e realizziamo il tuo podcast aziendale